Inizia il condo alla rovescia per Canicattì-Catania di domenica pomeriggio alle ore 15 al Marco Tomaselli. Dopo il tavolo tecnico tenutosi questa mattina in questura, nel pomeriggio è partita la prevendita dei biglietti per la partita più attesa da parte dei tifosi rosso-azzurri. Prevendita attiva presso i punti vendita autorizzati nella città di Catania e a Canicattì. Per disposizione della questura di Caltanissetta, ai tifosi del Catania sarà riservata la curva A a lato Caltanissetta. La tribuna coperta è il parterre con capienza totale di circa 3.330 posti. Ai tifosi del Canicattì è stata riservata invece la curva B a lato Delia con capienza di circa 900 posti. Non disponibile la vendita online.